Novità in arrivo nei cimiteri comunali di Fano dove è in atto un nuovo piano di servizi di riqualificazione strutturale a partire dall'aumento dei loculi disponibili ai cimiteri di Rosciano e dell'Ulivo ai progetti per il campo degli indecomposti. Inoltre è stato rinnovato l'appalto vinto per la seconda volta consecutiva dalla cooperativa Sopra il Muro che ha sostituito una delle navette del cimitero dell'Ulivo con un'altra attrezzata di pedana per consentire il trasporto di persone disabili. Per chi ha difficoltà di deambulazione potrà circolare pure con un mobility. Questo servizio sarà disponibile anche nel cimitero centrale e in futuro probabilmente in quello di Rosciano. Potrà essere utilizzato rivolgendosi al personale presente che darà informazioni sul funzionamento del mezzo oppure su prenotazione contattando gli uffici al numero 0721 80 33 43. Noi avevamo fatto una proposta per risistemare il campo degli indecomposti così chiamato presso il cimitero dell'Ulivo. Siccome l'amministrazione per via delle proprie professionalità interviene in autonomia noi abbiamo sostituito quella miglioria con un servizio presso il cimitero di Fanno Via della Giustizia coadiuando il personale comunale in mancanza del custode comunale che come sappiamo è deceduto Sanchione Silvano per cui l'abbiamo sostituito noi con una nostra operatrice. Di chi si tratta e quali mansioni svolgerà? Allora si tratta di Barbara Misturi che attualmente è anche la capocantiere e svolgerà le funzioni di registrazione, organizzazione del servizio, rapporti con l'utenza, informazioni in assistenza Rita Perugini che è la comunale per cui insieme faranno tutti i servizi che prima svolgeva il signor Sanchioni. Ad annunciare le migliorie in conferenza stampa è stata Marina Barnesi poco prima del passaggio di delega con il neossessore Cristian Fanesi. Un anno e mezzo fa ha detto abbiamo ereditato una struttura con molte lacune nonostante la professionalità dei dipendenti che poi hanno dimostrato fin da subito la volontà di collaborare e di ripartire da capo. Dopo un duro lavoro precisa sono diminuite lamentele e segnalazioni da parte dell'utenza. Un'altra novità importante che verrà giunta per la prima volta sarà la distribuzione di una carta dei servizi cimiteriali che conterrà tutte le informazioni utili alla cittadinanza come gli orari di accesso, i servizi forniti e i numeri di telefono di riferimento. Ma non è finita qui perché nei tre cimiteri principali e quindi al Centrale, all'Olivo e a Rosciano verranno distribuiti dei moduli per valutare il grado di soddisfazione attraverso giudizi, suggerimenti o consigli per migliorare i servizi offerti e ricevuti. Anche Fano TV per tante contestazioni che sono arrivate anche nello scorso anno ha segnalato, ha comportato davvero anche con i lavori pubblici una collaborazione molto stretta, quindi anche con l'assessore Paolini. È chiaro che sono interventi che non hanno la forza di ridare un volto nuovo ai cimiteri di Fano, però sicuramente molto più decoroso. E quindi io consegno oggi a Cristian Fanesi questo lavoro, un lavoro importante che si esprime attraverso delle importanti migliorie, ma anche la volontà di poter tenere tutto questo aspetto, che è quello della cura, il culto dei morti, la sepoltura, la organizzazione di questo, al centro dell'amministrazione. E per questo sono contenta del lavoro fatto e sono convinta che Fanesi saprà portarlo avanti nel migliore dei modi.